Il Sulmona Futsal si aggiudica il big match di giornata battendo lo Sport Center Celano per 4-2 al termine di una partita degna della Serie C1. Due ottime squadre guidate da due grandi allenatori come Benjamin Fonte e Walter Di Domenico. Garabella sin dei primi minuti con azioni da ambo le parti. All'ottavo buona combinazione tra Sanchez e Junior con palla mandata di poco a lato dal brasiliano. Subito dopo ci prova Giansante con un tiro respinto da Pompili. Il Sulmona insiste fino ad arrivare al gol sugli sviluppi di un corner dopo una conclusione di Junior. Battuta di Palladino per il tiro vincente di Giansante per l'1-0. Al quarto d'ora Sanchez ferma di Cursio con l'arbitro che estrae il rosso diretto per il giocatore sulmonese. Espulso Sanchez al termine di un'azione non fermata precedentemente per un intervento di Rossetti su Palladino. Prova la reazione lo Sport Center che si vede con le conclusioni di Rossetti e contestabile. Al 28esimo espulsione anche nei Celanesi dopo una rimessa laterale di Liberatore va a dar fastidio di Cursio che non rispettando la distanza si becca il secondo giallo. Sul finire di tempo i Sulmonesi sfiorano il gol con il tiro di Junior respinto da Pompili e dopo la ribattuta Giansante manda fuori. La ripresa si apre con un tiro di Ginnetti ma gli ospiti pareggiano. Al terzo palla in mezzo di Panacci per il gol di Rossetti. I Sulmonesi subiscono un po' la pressione dei Marsicani che si rendono pericolosi con una punizione di Lancia. Al settimo altra espulsione nei Celanesi, cartellino rosso per Lancia dopo la seconda munizione. Il Sulmona poi sale nuovamente in cattedra e ottiene il nuovo vantaggio con Veneziale che riesce a farsi spazio e a trovare la strada del gol per il 2-1. Giansante a tu per tu con Pompili spedisce di poco a lato. La squadra di Di Domenico si vede con Panacci e poi manca la rete clamorosamente con Rossetti e Panacci. Celanesi in avanti con Rossetti ma il Sulmona porta tre le marcature. Lotta Giansante con Rossetti con palla che finisce a Junior che a porta vuota sigla il 3-1. Un minuto dopo Junior sfiora un altro gol. Al ventunesimo il portiere di movimento D'Andrea è battuto ma è providenziale il salvataggio sulla linea di Paris. Si susseguono altre azioni e sul finire lo Sport Center riapre la partita. Scambio Cotturone-Paris e gol di Panacci. Raddoppio dei Marsicani e punteggio sul 3-2 ma le emozioni non finiscono qui perché nel recupero conquista palla Giansante che vede la porta avversaria sguarnita e conclude dalla propria area per il gol che chiude la partita con il risultato di 4-2 per il Sulmona. Nervosismo alla fine e ne fa le spese Paris per proteste per la quarta espulsione del match, terza per i Celanesi. La squadra di Fonte ottiene il quarto successo consecutivo mantenendo la vetta solitaria a punteggio pieno. Grazie a tutti.